ciao ragazzi bentornati in nuovo video abbiamo appena iniziato un nuovissimo mondo di minecraft questa sarà la vrong vanilla va bene abbiamo già un po di pelle e carne quindi non moriremo di fame sul colpo come bioma siamo sponati in un bioma abbastanza decente la prateria che contiene un sacco di animali quindi col cibo dovremmo essere a posto adesso uccido le mucche c'è pure un pappagallo magari se trovo qualche semi lo posso temare aspetta voglio averlo già cerco i semi ho trovato uno vieni qua pappagallo vieni qua non viene a terra si perfetto mi aspettavo di prenderlo al primo colpo ma hai visto su youtube qualcuno mai riuscito a prenderlo al primo colpo no quindi cosa ti aspettavi da me di sicuro molto meno preferisco sto tipo di erba perché ha degli hit bots più grandi e è più facile colpirla ci diamo sta mucca so che come ogni persona su minecraft normale farebbe la prima cosa è prendere la legna però io ho visto sto pappagallo e lo voglio oh madonna che fortuna adesso mi segui giusto ah va bene ce l'ho sulla spalla pensavo a dire che mi era sponato sul momento ecco adesso prendiamo un albero magari voglio prendere questi qua normali che hanno un legno più bello non quelli di acacia che fanno schifo va bene se vedete che mi spavento non c'è nessuno probabilmente sarà il pappagallo che mi farà il verso dell'ender dragon del wither e si praticamente farò un rage quit della madonna 0,2 secondi comunque abbiamo legna scusate se uso il crafting manuale ma uso il libro del crafting perché non ho voglia di piazzare le robe poi so che qualcuno nei commenti dice eh io crafto così non come te ma poi praticamente tutti lo facciamo quindi non avete scuse vieni qua eh sali ok ah bene qui abbiamo già una caverna la vedo già del ferro perfetto iniziamo benissimo faccio la crafting prendo prendo un vabbè faccio la crafting mi faccio un piccone prendo subito il il c'è una pecora nera prendo subito il ferro magari lasciando il mio pappagallo vabbè ecco tu rimani qua no ma sono scemo devo prima prendere la pietra va bene va bene prendiamone anche un po' extra che non si sa mai quindi vedo vedo già altro ferro che fortuna essere spawnato qui c'è un sacco di ferro beh non sono proprio spawnato qui ma di aver trovato sto posto va bene il problema è come torno su allora questo potrebbe metterci un pochino quindi per non farvi annoiare vi risparmierò non vi farò annoiare va bene ragazzi siamo saliti vi ho risparmiato non vi ho fatto annoiare a morte con la mia risalita e adesso è meglio fare questa cosa prima faccio una fornace ci metto la legna e mi cuocio un po' di roba perché se no avanti così ho già metà della barra da fame non andiamo bene va bene primo giacimento di ferro vediamo quanto è uno due tre quattro va bene solo quattro pezzi però va già abbastanza buono considerando che abbiamo appena iniziato andiamo quest'altro pezzo uno due tre va bene sì dai ce n'è altro lì di ferro vado a prenderlo poi vediamo farmi una casa perché sta arrivando il buio ok opterei per la 3x3 questo è solo un pezzo era vabbè dicevo opterei per la casa con la larghezza 3x3 così possiamo farla più velocemente con meno materiali va bene siamo tornati su e ho appena finito la legna mi prendo così qua devo mangiare che tra poco muoio di fame va bene prima di fondere questi lingotti prendiamo la legna e facciamo una casa poi possiamo prendere anche della legna per fondere i lingotti perché di andare in miniera adesso con niente che sta per venire notte andare a prendere il carbone non non è tanto una buona idea va bene dovrei aver preso tutto l'albero ecco sta già venendo notte non so se mi basteranno 28 credo di no e al massimo mi farò un buco 2x2 no ho sbagliato no ho sbagliato mi manca un blocco prendo la terra prendo la terra prendo la terra non ho tempo non ho tempo sta arrivando la notte prendo la terra prendo la terra per il tetto mi servirebbe 9 di terra più altri 2 per coprire la porta poi scotteria prendo la terra sto spammando come se non ci fosse un domani non capisco niente papagallo mi sta facendo venire dei far baby zombie non ce la farò stanotte mi sa di no se non riesco a farmi un buco velocemente non potrò sopravvivere sopra l'albero va bene va bene qua dovremo passare la notte a voluvi Ehi!